musica tutto pronto inizia il match tra i Drenosos e i ragazzi degli AC, International, SF, eccetera eccetera vediamo questa gara che emozioni ci regalerà subito Ferrentino, Champaglia, si incunea, poi Balido, ex di turno, ex contro ex in questa partita ancora Balido, prova ad andare falso in Balido per l'eccellenza Tony, Tony tu dove andai? tu, gollo un mal di schiena un mal di schiena ah la prendi proprio sul personale Amedeo col mancino palla che simile, termina fuori Ferrentino sulla corsa per Amedeo palla fuori Amedeo la batte con sinistro come faceva Sisu pur essendo destro e segna il gol del vantaggio a Genesis 1 a 0 e Gennaro la parata di Romano Gaudiello non respinge Ricci il gol del profeta 1 a 0 Gaudiello anzi il pareggio 1 a 1 Amedeo cambia tutto Balido se ne va ancora Balido Shanaffa poi Balido Ricci la bara che dice questa cosa che i momenti hanno visto la radio cronaca esce un mal di schiena Francesco finisce qui il primo tempo 1 a 1 tutto pronto inizia la ripresa 1 a 1 tornaccio international SF eccetera eccetera contro i Genesis gara molto equilibrata vediamo chi preparerà nella ripresa Fai Amedeo Amedeo perciampaglia ancora Flavio Amedeo con il destro Romano cosa ha preso e infatti fateglielo fare quella latrina malido rovesciata Calabria ti devi fare Instagram mi faccio pagare un calabria no Fabri la tocchi tu per ultimo no Fabri falle a mezzo Amedeo tu per tuo Amedeo attenzione esiste un fallo con il tacco Romano cosa ha preso che era giovedì santo fallo valido oh direzione Gigi Balido il gol dell'ex segna e non esulta e c'è il gol di Balido 2 a 1 sì Amedeo 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 palla in mezzo Ciampaglia Amedeo palla fuori no no ha segnato il risultato Amedeo con il destro quando nessuno se lo aspettava destro stretto sul primo palo c'è il gol del pareggio 2 a 2 De Gennaro per Sharaffa Amedeo il gol del vantaggio De Genesis tripletta di Fabio Amedeo 3 a 2 e finisce qui con la vittoria del Genesis andiamo dal migliore in campo eccoci qui con il man of the match Flavio Amedeo Flavio Allora dopo la partenza di entrambi balido tutta la responsabilità dell'attacco e sui due spalle quest'oggi non l'hai sentita tripletta per te sei l'uomo della partita che gara è stata è stata una bella partita combattata fino alla fine però alla fine noi abbiamo finalmente abbiamo giocato bene fino alla fine non abbiamo mollato e poi si tregola bene la ragazza ande senti racconi con la punizione di sinistro sappiamo che tu sei destro ma là non ci hai pensato un attimo il genio di tirare col sinistro beh è venuto bene comunque senti i genici stanno nelle difficoltà comunque riescono a compattarsi molte volte ci sono stati degli adi però si è arrivati comunque fino in fondo in questo estivo qual è l'obiettivo l'obiettivo andare avanti e provare a vincere anche il torneo che si può vincere va bene in bocca al lupo ragazzi grazie grazie